Come ogni giorno siamo a Cortina per raccontarvi la cronaca di un mondiale che stenta però a partire perché oggi avrebbe dovuto disputarsi il Super G femminile sull'Olimpia delle Tofane invece alle 14.30 la gara è stata cancellata, vedremo poi se sarà ripristinata il motivo è ancora una volta il cattivo tempo, la nebbia ha impedito la partenza delle atlete noi comunque sentiamo i pronostici di Daniela Ceccarelli per i prossimi giorni a tra poco con il fuori pista Ovviamente le aspettative sono sempre tantissime, diciamo che nel campo femminile con fuori dai giochi purtroppo la nostra mitica Sofia Goggia nazionale a causa di questo infortuno corso lei proprio alla cancellazione della gara di Garmisch è caduta una microfattura purtroppo del piatto tibiale la relega lì a casa e quindi ovviamente queste aspettative gravano tutte sulle spalle di Brignone, Bassino, poi ovviamente anche Marsali e Curtoni che saranno in pista poi in campo maschile abbiamo cinque carte da giocarci perché abbiamo ovviamente insieme alla nostra squadra il detentore del titolo mondiale dell'ultima edizione Paris e quindi ovviamente abbiamo un posto in più insieme a lui ovviamente favoriti metterei anche il Nerofer che tanto ama questa pista, questo posto quindi abbiamo sicuramente molto da sognare Grazie. 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 Grazie.